non ci arriva mai e non so se ci arriverò mi ha mollato qua a 500 metri dalla punta della montagna farò quasi un'ora che la spingo sa di morire le stelle alpine ho trovato un'ora che la spettacolo non ha più neanche la forza di stare sulla bici ecco i sassi devono colpire la bici o